Paravena 2014, soluzioni innovative per la misura, l'analisi e il controllo delle reti di distribuzione idrica. Oggi è il workshop A, siamo con Carlo Carrettini, Acquedotto di Milano. Di cosa parlerete quest'oggi? Parliamo di tutte le iniziative che abbiamo attivato negli ultimi 3 o 4 anni per rendere più efficiente la gestione dell'acquedotto. Perché è vero che Milano ha molta acqua, ma la gestione efficiente è un vantaggio per il servizio in termini di qualità per l'utente, ma anche in termini di costi gestionali. Quindi avere tanta acqua non vuol dire sprecarla, ma mirare a un miglioramento generale. Acquedotto che è tra l'altro gestito dalla metropolitana. Sì, Acquedotto di Milano, come tutto il servizio idrico, è gestito dalla società metropolitana milanese, che è una società interamente pubblica, il cui socio unico è il Comune di Milano. Grazie a Carlo Carrettini, buon lavoro. Grazie.